Amici, 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 rieccoci qui, ben ritrovati ad un nuovo video con Deluxe, come vedete dall'immagine di videocopertina, la WWE riparte proprio da questi due uomini chiave, ovvero CM Punk, dopo dieci anni, ben lunghi dieci anni di assenza dalla federazione di Stanford e soprattutto Randy Orton, che proprio nella notte scorsa, nell'ultima puntata di SmackDown, ha messo sempre più nel mirino la Bloodline, il capo tribù Roman Reigns, quindi si prevede a questo punto una sfida titolata, si presuppone una sfida titolata tra Roman Reigns e Randy Orton a gennaio Royal Rumble e per CM Punk si pensa molto probabilmente a Seth Rollins, però ovviamente non mancano gli scontenti, questa volta parlo del poster ufficiale promozionale dell'omonimo Pepperdine Royal Rumble, tra cui Drew McIntyre e Belchie si sono lamentati dell'allura assenza sul poster, quindi il ferro è caldissimo, se ritorno ai fasti di un tempo, meno male, oserei dire, che dire, godiamoci questi momenti, anche perché la WWE sta spingendo, offrendo anche dei contenuti sui propri canali social, sia per quanto riguarda CM Punk che Randy Orton, a me non mi resta che salutarvi, ci vediamo ai prossimi contenuti video, ciao!